Publiacqua, l'azienda che gestisce i servizi idrici per le province di Firenze, Prato, Pistoia e parte di quella di Arezzo, comincia un nuovo corso. Nell'ultima assemblea dei soci è stato nominato il nuovo presidente, Filippo Vannoni, commercialista fiorentino che ha preso il posto di Erasmo D'Angeli, si è nominato sottosegretario alle infrastrutture. È stato anche approvato il bilancio di esercizio 2012, chiuso con un utile netto di 23 milioni di euro e 64 milioni di euro di investimenti nell'ammodernamento di impianti e reti, circa 13 mila chilometri di tubazioni. Ma qual è l'obiettivo prioritario del nuovo presidente? Mi trovo davanti una sfida importante, cioè la presentazione del piano operativo triennale ai sindaci dei territori. Ecco, in questo sarà un primo momento di dialogo con loro per cercare di capire le loro esigenze e quindi confrontarsi su questo aspetto che è poi l'aspetto importante che determinerà il prossimo triennio di investimenti. Il 60% di Publiacqua è controllato dai sindaci dei 49 comuni serviti dall'azienda. Il 40% fa capo ad Acque Blu Fiorentine, società per azioni composta da aziende pubbliche e private, fra cui la CEA, controllata dal Comune di Roma. L'Assemblea dei Socii ha deciso di distribuire metà degli utili del 2012, mentre l'altra metà, circa 12 milioni di euro, resterà in azienda per nuovi investimenti, scelta molto contestata dal Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua, che avrebbe voluto che tutti gli utili venissero reinvestiti. Si è rispettato un po' la tradizione, il 50% degli utili va ai soci, soci che comunque sono in gran parte i 49 comuni che compongono Publiacqua, quindi i soldi comunque tornano ai cittadini. L'altra parte viene accantonata e verrà accantonata per gli investimenti. Negli anni scorsi, in estate, ci furono grossi problemi di siccità in molte zone della Toscana. E quest'anno qual è la situazione? Di solito in questo periodo il CDA di Publiacqua faceva la danza della pioggia. Quest'anno, chiaramente, bilancino è al suo massimo storico, le falde sono piene, quindi prevediamo un passaggio delle...